Proseguono le attività propedeudiche alla realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Pigneto. Per lasciare spazio agli interventi, domenica la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni Ostiense e Tiburtina. I treni della FL1 Orte Roma-Fiumicino saranno dunque cancellati proprio tra Tiburtina e Ostiense. I passeggeri con lo stesso biglietto ferroviario potranno utilizzare in alternativa la linea B della metropolitana. I treni della FL3 Viterbo-Cesano-Bracciano-Roma invece saranno limitati a Ostiense e quindi non raggiungeranno Tiburtina. Infine i regionali della Roma-Pisa effettueranno fermata per il servizio viaggiatori a Roma-Tuscolana e in alcuni casi subiranno variazioni di orario. Per saperne di più, trenitalia.com